Musica Seduta solenne del Consiglio regionale per il giorno del ricordo, intervenuti il giornalista Toni Capuozzo e il referente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Guido Giacometti. Il Consiglio regionale ha osservato un minuto di silenzio per esprimere il cordoglio per la morte di un operaio di 58 anni a Pistoia. Mazzeo, fermiamo questo stilicidio. L'assessore alla salute Bezzini, rispondendo in aula a un'interrogazione del capogruppo di Fratelli d'Italia sul caso Blaovic, riferisce che l'Asle Toscana Centro ha informato l'autorità giudiziaria sulla sospetta violazione dell'isolamento da parte del calciatore. La giornata del ricordo Il dramma delle foibe assume i contorni di un genocidio inaudito. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha aperto la seduta solenne del Consiglio regionale dedicata al giorno del ricordo, il 10 febbraio, la commemorazione di tutte le vittime delle foibe dell'esodo Giuliano Dalmata. Il presidente ha parlato dell'istituzione del giorno del ricordo con legge del 30 marzo 2004 e del 10 febbraio, perché in questa data, nel 1947, veniva firmato a Parigi il Trattato di Pace tra l'Italia e le forze alleate, che pose fino alla guerra, ma che lasciò irrisolta più di una problematica relativa al nostro confine orientale. Le atrocità della guerra, l'odio che ha segnato il Novecento non può passare inosservato, non ci si può voltare dall'altra parte. C'è chi continua a dire, e vale per la Shoah, ma vale anche per le foibe, che tutto questo non è mai accaduto. Ecco, io penso che un'istituzione come la nostra non debba voltarsi dall'altra parte, debba ricordare perché quello che è accaduto non accada mai più. Io prendo in prestito le parole del presidente Mattarella, che lo scorso anno, insieme al presidente sloveno, mano nella mano, la potenza di quel gesto, mano nella mano, ci ha mandato un messaggio forte, che le sofferenze, i lutti, lo sradicamento sociale e culturale che avvenne in quel tempo non può essere dimenticato. Il giornalista Toni Capuozzo, intervenuto alla seduta solenne, ha aggiunto una riflessione sulla contrapposizione, per lui priva di senso, fatta tra le due giornate della memoria e del ricordo. L'olocausto è qualcosa di assoluto e senza termini di paragone, ma affermare l'unicità della Shoah non vuol dire dimenticare tragedie minori, ha detto Capuozzo. Guido Giacometti, referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, in apertura del suo intervento ha ricordato come in quelle terre italiani, sloveni, croati vivessero non come tribù, ma come popoli con una propria identità in una zona multietnica da secoli. Come ha ricordato il presidente Mazzeo Giacometti, vive a Dignano d'Istria, che è stato costretto a lasciare in veste di profugo. In Toscana esistevano dei grossi campi profughi, che sono stati soprattutto a Laterina vicino a Rezzo, a Firenze, poi a Lucca, Pisa e Carrara. Ma poi ne esistevano anche più piccoli, che io ho scoperto andando a fare delle celebrazioni per il giorno di ricordo a Pistoia, di tipo un po' diverso. Per esempio i Vigili del Fuoco di Pola si sono trasferiti, non so se tutti, ma in larga misura, e sono stati inseriti nella forza dei Vigili del Fuoco di Pistoia. E li hanno insediati una specie di piccolo campo, insomma, di insediamento a Ponte Abugiano. Quindi ce ne sono parecchi, se ne scoprono in continuazione. Ci sono più profughi, anche parlando oggi con qualcuno, ho scoperto che aveva dei parenti di secondo. Ci siamo sparsi un po' per tutta l'Italia. E un buon numero, credo circa 70.000, anche all'estero. All'estero, ovunque, fine d'Australia e così via. Perché c'è stato l'Esodo? Allora, tutte le storie possono essere molto complicate e anche molto semplici. La cosa fondamentale, come ha detto Churchill, è caduto una cortina di ferro che è partita da Stettino sul Baltico fino a Trieste, sull'Adriatico. Quindi noi siamo stati gli unici di lingua italiana che siano rimasti in massa al di là della cortina di ferro. E come da tutti i paesi in cui c'è il comunismo, la gente cerca di andarsene. Noi abbiamo avuto un privilegio che il trattato di pace dell'articolo 19 prevedeva che quelli di lingua d'uso italiana potessero andare via. È chiaro che questo è un'addizione che permetteva soprattutto all'autorità di giocarci. Quindi in alcuni casi la gente è andata via tranquillamente. Perché tendevano a cercare di evitare, come in tutti i paesi di questo tipo, che la gente andasse via. E quindi magari autorizzavano il marito e non la moglie, i genitori e non i figli. Però insomma, poi anche lì c'era il problema. Ma chi erano gli italiani? Eravamo situazioni estremamente miste. Gente che si era sposata, matrimoni misti. Non erano due tribù diversi. Semplicemente è come se ora qua a Firenze ci fossero alcuni che parlano un dialetto e altri un altro. Quindi non c'erano differenze significative. E quindi con quella formula tanti hanno avuto anche difficoltà ad andare via. Il giorno di ricordo ha dato una mano e sta continuando a lavorare progressivamente. È uscita una statistica, l'ho saputo a voce, non l'ho ancora letta, non so se è stato ancora pubblicato, che valutava negli anni la percentuale degli italiani che conoscono questa storia. sta aumentando, l'ho arrivata quasi al 50%, è tanto. Rispetto a prima era un silenzio assoluto. Diciamo che la nostra storia continua un pochino a essere strattonata da diverse parti ancora. Una lettura nazionalista o una lettura invece di alcuna sinistra che la cosa non gli torna. Quindi c'è un po' questo tentativo di impadronirsene. Al presidente della Toscana, Eugenio Gianni, l'intervento conclusivo della seduta solenne per la giornata del ricordo. La giornata del ricordo, istituita con legge il 10 febbraio, oggi è stata solennemente ricordata nel Consiglio regionale perché è una testimonianza fondamentale, quella della memoria, perché gli italiani sappiano quello che è accaduto, che probabilmente 11.000 loro connazionali sono morti, gettati in queste cavità carsiche, dette foibe, e che tutto questo avveniva nel momento in cui un esodo di 400.000 persone veniva a costringere gli italiani a uscire da quelle terre. Pensate che fu proprio il piroscafo dal nome Toscana che rimane emblematico dell'esodo appunto di 400.000 persone dall'Istria, dalla Dalmazia. Io penso che sia molto importante ricordare che quella parte d'Italia, Dante ricorda proprio nella Divina Commedia, nel nono canto dell'Inferno, l'Italia come un paese dalla Sicilia a Pola, sia oggi sempre caratterizzata in un'epoca di pace comunque dalla necessità di pensare agli italiani che furono costretti dopo la Seconda Guerra Mondiale a venire via e purtroppo se non venivano via le foibe erano la destinazione per coloro che entravano in conflitto. Penso che sia bello però ricordare anche i momenti in cui nei campi profughi che furono in modo molto rapido d'emergenza allestiti furono il presupposto di un'integrazione che poi nella gran parte dei casi vi è stata, tra questi italiani che venivano dai confini nord-orientali e devo dire che noi stiamo pensando a un museo proprio a Laterina, il più grande campo profughi Istria-Dalmat che vi sia nella nostra Toscana. In conclusione della seduta il Presidente Mazzeo ha voluto consegnare insieme con tutto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale al Presidente Gianni il Pegaso alato a Guido Giacometti. Un minuto di silenzio per i morti sul lavoro. Un minuto di silenzio chiesto dal capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli ha caratterizzato i lavori d'aula per esprimere il cordoglio del Consiglio regionale per la morte di un operaio di 58 anni investito da un carrello elevatore nel piazzale della cartiera dove lavorava nel territorio comunale di San Marcello Piteio in provincia di Pistoia. Assistiamo ad una vera e propria strage in Toscana e non solo, ha detto il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo prima di dare il via al minuto di silenzio. Dobbiamo impegnarci tutti a provare a fermare questo terribile stilicidio di vittime e famiglie distrutte. Il Presidente Mattarella ci ha detto una cosa forte, ci ha detto a ognuno di noi nelle istituzioni in cui siete ponetevi un interrogativo sul perché continua a succedere tutto questo. In quel minuto di silenzio io la domanda che mi ponevo oltre alla preghiera era questa, cioè noi qualche anno fa abbiamo fatto un protocollo sul marmo, ve lo ricorderete, in cui sostanzialmente mettevamo anche risorse pubbliche, facevamo lavorare insieme tutti i soggetti interessati. In quel comparto c'è stato un grande calo delle morti sul lavoro. Io penso che questa attenzione, l'assessorato al lavoro e l'assessorato alla sanità devono metterlo anche per altri comparti come quello metalmeccanico, ma non solo, abbiamo fatto una legge come vi ricorderete, quindi ognuno può fare la sua parte, questo è vero, per quanto riguarda i rider. La prima legge in Italia sulla sicurezza dei luoghi di lavoro che stiamo attuando proprio in queste settimane, in questi mesi, con dei protocolli ad hoc per garantire a quelle ragazze e a quei ragazzi il cui luogo di lavoro è la strada, maggiore sicurezza. Quindi si può fare, si può fare con atti concreti, mettendoci risorse, ma le risorse non bastano. Serve, come dire, costruire un perimetro di lavoro comune in cui da una parte c'è il controllo, dall'altra c'è l'informazione e ci sono le condizioni perché questo possa avvenire. Guardate, è drammatico vedere quello che accade, cioè si va a lavorare e si muore sul luogo di lavoro. È qualcosa che io penso che debba toccare tutti noi e per cui ognuno di noi si debba impegnare. Il caso Blaovic. L'Asle Toscana Centro ha dovuto informare l'autorità giudiziaria circa la sospetta violazione dell'isolamento domiciliare di Dusan Blaovic. Così l'assessore regionale alla salute Simone Bezzini ha risposto in aula ad un'interrogazione di Francesco Torselli, di Fratelli d'Italia. Quest'ultimo infatti aveva appreso dagli organi di informazione la notizia che il calciatore si sarebbe trovato a Torino il 28 gennaio 2022 e non in isolamento domiciliare come la sua positività al Covid avrebbe previsto. La vicenda non è seguita direttamente dalla regione ma dall'azienda Asle Toscana Centro che avendo appreso dai media, essendo il calciatore Dusan Blaovic, un personaggio pubblico insomma della sua presenza a Torino in un periodo in cui causa positività avrebbe dovuto essere diciamo in isolamento secondo le normative, ha effettuato delle verifiche per comprendere se erano pervenute istanze di trasferimento di luogo dove effettuare l'isolamento e tale verifica hanno fatto rilevare che non sembrerebbero essere arrivate all'Asl istanze di questa natura. Uso il condizionale perché poi capirete il perché, nel senso che a questo punto il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl, diciamo in virtù delle normative sulla violazione di domicilio sugli spostamenti non autorizzati e così via, ha effettuato una segnalazione all'autorità giudiziaria e sarà l'autorità giudiziaria a fare gli accertamenti diciamo che essa ritarrà opportuno fare. Le mie informazioni sono quelle che mi ha fornito l'Asl Centro per la risposta all'interrogazione, ecco da qui in poi ovviamente poi c'è anche un tema di riservo essendo informazioni che attengono attività dell'autorità giudiziaria da una parte ma anche informazioni di natura sanitaria e dobbiamo rispettare anche gli elementi della privacy. Il capogruppo di Fratelli d'Italia si è detto assolutamente soddisfatto della risposta dell'assessore regionale. Se qualcuno avesse avuto il dubbio se il calciatore Dusan Vlaovic per recarsi a firmare il contratto con la Juventus avesse violato o meno la quarantena, da oggi sappiamo che la risposta è sì, ovvero il signor Vlaovic a differenza di tutti gli altri cittadini che a seguito di un tampone positivo e quindi di una positività accertata al Covid-19 anziché farsi i sette giorni di quarantena che si fanno tutti i cittadini e le cittadine della Toscana, lui dopo sei giorni o dopo addirittura cinque e mezzo può andare senza deroghe, senza autorizzazioni. L'assessore Bezzini ci ha confermato che non esiste alcuna autorizzazione da parte dell'ASL Toscana né alcuna deroga concessa dall'ASL del Piemonte, quindi anche chi ha raccontato che esisteva una deroga da parte dell'ASL del Piemonte ci ha raccontato una bufala, è semplicemente che dopo cinque giorni e mezzo di isolamento il signor Vlaovic ha ritenuto possibile per lui violare la quarantena e recarsi in auto, non si sa con chi, con altri cittadini che poi dopo a seguito di un contatto con un positivo sono rimasti a giro liberi per la nostra regione e se ne è andato beatamente a Torino a firmare il contratto con la Juventus, a farsi le foto in mezzo ai tifosi, ad abbracciare le persone che sono tutti mi sembra protocolli previsti dalla quarantena Covid. Quindi la regione toscana, l'ASL Toscana Centro ha trasmesso tutti questi dati all'autorità giudiziaria, quindi da oggi l'autorità giudiziaria, da qualche giorno l'autorità giudiziaria è in possesso di una comprovata violazione ai protocolli Covid. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS